Allora io sono Marcus Gran e signore e signore bentornati nella Crazy Craft e come potete vedere dal titolo della puntata sono una bellissima farfalla no dal titolo della serie sono una bellissima farfalla perché questo va che è absurdo e siamo diventati una modder Yuppiduuu volare volare in seguito alla disfatta no torna così alla disfatta del Wither io stavo ricercando casa dovrebbe essere quella laggiù dove c'è l'albero dell'esperienza Che cacchio sei tu sei una mucca con sopra un maiale cioè sopra un maiale E' quello che ve meritate e visto che c'è sto facciamo così Facciamo così Va bene Uh perché? Ma che diavolo Ma che Ragazzi ho davvero delle grosse Posso diventare un gattino Un simpatico Ma perché c'ho 40 nether star? Uccidere la motor mi ha dato questo Davvero Sono un gatto Mi ha dato il gatto Oggi Ho sentito degli zombie Mazza quanto sarta il gatto Ah vabbè perché c'ho l'armatura di Hulk giustamente Sono un gatto con l'armatura di Hulk Spacco i culi Miau Oggi come promesso Lucky block a profusione Quindi entriamo dentro casetta E ci facciamo la nostra sfida Ogni tanto Non posso cliccarci sopra I lucky block non hanno Sì c'è l'hanno i MC 16.000 Uno soltanto Vabbè allora ce ne metto 40 E ne prendo 10 12 Facciamo 16 per ora Dai va bene va bene Qui dentro sarà pieno di merda Sì io uso il mio superpotere Per cancellare i soldi Che sono proprio inutili Oramai buttiamoci dentro tutto quanto E signori signori Andiamo Cosa cacchio Una mela Ma non è una melinda Andiamo di qua Spero che un lucky block Mi possa dare a questo punto Qualcosa di buono Tipo posso diventare un cianzi Cianzi Ma perché non vola cianzi Ah ecco Ok Torniamo a essere un essere umano per favore Ho un gatto Ho un essere umano Ho un gatto Ho una faffalla Una lumaca Va bene Scusate Vi sto distraendo Sì Sono bellissimo Zon zon Sono il re del mondo Ok Signori Il primo lucky block di oggi Siete pronti? Siete caldi? Olle Una spata Con sharpness Ma Cioè questa c'ha 46 No questa c'ha 46 Da cacchio Vabbè questa la teniamo Cazzo è successo Vabbè Siete pronti Siete caldi Boom Porca paletta Uh è la prima volta che mi salvo dalle super esplosioni del coso Ok continuiamo qui Ma rallenta l'ostrica Cioè c'ha C'ha una caduta dolce Ma che figata Vabbè diventiamo Un ape No Un coin Una gallina Aio Mamma mia Non me Ok Vediamo Uh Uh Salve Salve Non ci interessate Lucky villager Che c'hai? Diamanti per la spada La vada al cazzo La vada al cazzo No 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 Ah Ah Vespa A Vespa Mi dispiace ma Ma perché fa Ah È un potere di Hulk Giusto No Talvolta sì talvolta no Ragazzi quali sono i poteri di Hulk Non li avevamo considerati Allora la prossima puntata ci vediamo Mettiamo a vedere I poteri di Hulk Intanto adesso spacco tutto qua Siete morti? Tutti quanti? E tu? Non è tu Ok Ho fatto il piano di Merda Come al solito Come al solito Dodicesimo laghi block Canna da pesca super figa Perché esplodono le cose ragazzi? Ma come fa a colpirmi Da codesta distanzia? Eeeh Oggettini Una pala Rumori Queste cose le posso mettere dentro Sì Grazie a Dio Ti voglio bene Vai Vai così Con questa pala Magari ci riprendiamo Il costo di qualche laghi block Vai Uh oro Sì Fantastico Uh libro Che ci dà? Lagi block block Ma perché devi rompere così Tanto il cassius Uh Oggetti d'oro Oh cazzo Regà che paura Ah 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 Che paura Ok pesci Una cesta con dentro Degli altri laghi block E dei diamanti Signori Fantastico Eeeh Va bene No aspetta Questa qui è stupida come cosa Attenti non mi si sistema mai l'inventario Facciamo così Poi facciamo così E buttiamo dentro queste cose Cozzi Addio pesce palla Sei stato un buon amico per me Uh non è vero Ok Quindi E abbiamo altri dieci Uh Paiura Vai Sapete che ho scoperto Che non lo sapevo per niente Ma perché è così alto Il volume D'esta vespa Vespa vieni qui Che questi cavalli Sono all'interno Del codice di minecraft Io non lo sapevo per niente E soffrono come dei maiali Vai Cos'è? Obsidians Non ci interessi Oggetti Che schifo Uh 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 Effettivamente Nessuno ci aveva pensato Nessuno ci aveva pensato Nessuno ci aveva pensato Nessuno si era aspettato L'inquisizione svizzera Dove la spagnola Potremmo andare nel land Nel Sì potremmo andare nel land Allora facciamo così Bi 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 Queste simpatiche pozioncine Le mettiamo qui Prima che giunga notte Lucky villager Prima che giunga notte Lucky tool Prima che giunga notte Oro Non è andata male Dai Mamma mia Quanto rompono Oh L'ape è proprio stronza Attacca tutti Ah io Questo è Salve Ok Perché riesce a saltare così tanto Ma sono super Sì sono superman Uh regà Dobbiamo vedere le abilità Dobbiamo vedere le abilità Dobbiamo vedere le abilità Qui intanto sta sprindellando l'esperienza Eh No Sembra di no Allora Prima di tutto Dobbiamo buttare queste cose qua dentro Intanto mi riprendo questo Poi facciamo così 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 E mi prendo un diamante Poi Così E mi prendo tutti i diamanti che posso Poi ci metto questo 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 non ce l'ha il valore Picchietto Accidenti Questi non hanno valore Uh E neanche questi Sì questi sì Cazzo 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 No fanno schifo In realtà Quindi mi prendo un diamante Diamanti Mela d'oro Diventano diamanti Che diventano Non lo so Le lasciamo tutti qui dentro Insieme a queste cose qua E pure questo Ok Allora Qui dentro Io ci metterei queste due cosine Questo 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 e questo Stavo pensando Se effettivamente Potevamo Andare dal drago Oppure no Uè drago Sei un drago Contro il calcare Qui c'è una personal anchor Che non ricordo di aver fatto Forse me l'hanno droppata Ender pearl Forse ho esagerato Forse ho davvero esagerato Moltissimissimo Personal anchor ok scusate ma purtroppo questo è quello che ci succede quando siamo strozi e a questo punto facciamo così forse andiamo dall'Under Dragon a questa puntata io direi di fare un'altra cosina spuzzolisissima molto carina così me le riprendo tutte quante le mettiamo qui e direi di aprire delle Pandora's Box ne apriamo ah non sono staccabili ne apriamo 5 ok però prima andiamo a dormire oddio meno male che non si è aperta qua dentro stavo tipo peffa il più grande casino della storia di Minecraft l'apriamo là ma certo che l'apriamo là vai mio piccolo ponio liscio ma perché perché ce l'avete a morte con me perché e perché io non c'ho l'arco dov'è il mio arco eccolo uh mortacci tua mortacci tua mori presa mori oh vaffanculo ape di merda ape di merda mi dispiace ma sei un asino ok scusate questa era era brutta lo so ok prima Pandora's Box io mi allontano mi allontano uh ok è diventato un pezzo di di bioma diverso secondo Pandora's Box che cazzo sta ha tirato oggetti un arco che merda ok questa questa era un po' una schifo ok terza mi aspetto un rispetto gladantissimo e paurosissimo oh no ha sterilizzato tutto ma che cagata perché mi stanno uscendo le Pandora's Box quelle gna 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 e soprattutto perché continua ehi non hai finito ehi che cazzo è successo ok non ho capito le passo mio marito apriamo la terza la quarta oh cazzo 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 ok è uscito fuori una gemma cattura tutti adesso le persone che stavano lì dentro anzi gli animali che stavano là dentro probabilmente sono tutti morti e infine dulcis in sfondo mettiamo questa qua mh beh e apriamo l'ultima intanto potete sentire gli animali morire oh porca merda piovono TNT porca puttana ma sono Wither Skeletron ah bello mortacci vostra ma mori ahio 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 ma non ho Witherato ma non ho Witherato mori mori maledetto maledetto datemela una testa del Wither ma dato dai ci sono divasto un po' male per le prime tre perché erano un po' una cagata mostruosa però adesso abbiamo prendete stiamo distruggendo la terra guardate cioè questo è quello che si vede da casa mia i vabini i vabini così quindi come ultima cosa di questa bellissima e in concludente puntata io direi di diventare una zanzara anzi una mantide vola la mantide no la mantide non vola Marcus Kron ma che vai dicendo diventiamo un uccellino un simpatico uccellino vediamo uccidere questi qui senza morire perché ci abbiamo un cuore solo oh cazzo ok non voglio morire qui olle signori siamo gli uccellini più forti del mondo sarà bellissimo italino noi ci vediamo alla prossima puntata da Graciecraft bella per voi